C'era una volta la capitale della telecomunicazione. Era Torino, città natale della vecchia SIP di Telecom Team e Infostrada. Oggi le aziende TLC in città si sono ridotte ai minimi termini e quelle rimaste attraversano una delle più gravi crisi del settore. 5.000 esuberi piemontesi per Telecom e 150 trattaglie ed esternalizzazioni annunciati nei mesi scorsi per British Telecom. Del 1995 gestore di telefonia fissa per l'utenza business. Siamo venuti a conoscenza attraverso gli ultimi incontri con l'azienda che intanto l'azienda punterà solo più sulle due sedi di Milano e di Roma che questa azienda attraverso processi di riorganizzazione, di razionalizzazione perché aveva fatto acquisizioni ad esempio di Albacom sta dicendo di avere dei doppioni di attività quindi sta spostando persone fra Torino e Milano e forse anche in qualche caso potrebbero arrivare degli spostamenti verso Roma oltre a questo ha denunciato anche di avere un organico eccessivo e che quindi deve essere ridotto. A settembre sarà presentato il piano di riorganizzazione dell'azienda all'insegna di coni vertici del contenimento dei costi e della sinergia in parole povere con una previsione di tagli negli uffici doppione quelli cioè diventati troppo numerosi dopo le fusioni dei mesi scorsi con altri gestori di telecomunicazioni, Albacom tra questi intanto in azienda l'ottimizzazione delle risorse si è già tradotta in numerosi trasferimenti 14 trasferimenti sono già stati fatti di questi 14 trasferimenti 9 persone si sono licenziate e 5 faranno avanti e indietro da Milano sono anche 5 persone che non sono più dei ragazzi con tutti i problemi che comporta questo tipo di vita Grazie